Non ne hai avuto ancora abbastanza? Non ne hai avuto ancora abbastanza? Sei pronto ora? Non ne hai avuto ancora abbastanza? 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 Grazie a tutti. 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 Non immagina quante volte mi sia posto la stessa domanda. Le donne della mia vita sono state tutte meravigliose. Mi hanno trattato molto meglio. Io credo che abbia scritto un libro pieno di bugie. Se si sta chiedendo se si sta chiedendo se ho inventato tutto questo. La risposta è no. Anche io mi sono chiedendo. quello che si chiede a tutti. riusciranno gli altri. e mi sono chiedere a credere a credere a credere a quello che dico, a quello che ho sperimentato. io ritengo che questo dipende da voi. da ciascuno di voi. spero con tutto il cuore. che non svilare e che non svilare e che non svilare e che non svilare e che non svilarete o minimizzerete il messaggio soltanto perché vi arriva da un messaggero così fallibile. prego. Mi chiamo Kay. e vorrei ringrazio e vorrei ringrazio e grazie a tutti voi. ma la verità è che io mi sono chiedere a tutti voi. e io mi sono chiedere a tutti voi. e lei dovesse sintetizzare a tutti voi. e lei dovesse sintetizzarlo in un paragrafo. che cosa scriverebbe? lo ridurrei a quattro parole. voi mi avete frainteso. grazie. 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 grazie a tutti. ci vediamo a New York. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. ancora niente? sto provando tesoro. mi sembra che tu mi stia prendendo in giro. non capisco, io ho esperienza. la tua esperienza non conta assolutamente niente. ne abbiamo già parlato, Neil. finché sarai costretto a portare quel collarino, nessuno correrà il rischio di assumerti. sul serio? allora si può sapere che cosa fate in questo ufficio? principalmente eroghiamo assegni a persone che ci incolpano per i loro problemi. scusa. che ti hanno detto in ospedale? che avrei dovuto cominciare a stare meglio dopo qualche giorno, ma è passato quasi un mese ormai. ah, credo che gli sia sfuggito qualcosa. cosa? Neil, tu hai il collo fratturato. signor Walsh? sono Michael. andiamo, signor Walsh. so che è lì dentro. no, non ci sono. è indietro di tre mesi con l'affitto. e ho detto che ho perso il mio... il suo lavoro. il mio lavoro, sì. lo so e mi dispiace molto per il suo incidente, ma non voglio perdere il mio lavoro perché lei ha perso il suo. mi creda, mi sto dando da fare. ho risposto non so a quanti annunci. non c'è nessuno a cui può rivolgersi? no, avrei dovuto farlo tanto tempo fa. insomma, io... non ho un posto dove andare. mi creda, mi dispiace. non l'argo. non l'acqua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma siete terribi? Adesso lo dico alla mamma. Mamma! 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 Potrebbe spiegarsi meglio? Noi non abbiamo problemi a dare a un allenatore di football 5 milioni di dollari a stagione o a un attore 10 milioni per un film, ma siamo convinti che chiunque abbia a che fare con la spiritualità debba vivere povero, celibe o in astinenza. Sì, è vero! E meglio ancora tutte e tre le cose, giusto? Sì, sì! Beh, non so voi, ma io non mi ricordo di aver mai fatto un voto del genere. Ora, provate a immaginare un mondo in cui il denaro viene dato a tutti quelli che ci dispensano i doni più grandi. Insegnanti, artisti, infermieri, pompieri, poliziotti, scrittori. E anche alle madri! Ha ragione! Sì, alle madri, è vero! Esatto. Ha ragione! Alle persone che ci tengono uniti, non a quelle che ci dividono o che ci disgregano. Dovete immaginare un mondo così. E noi potremmo averlo perché siamo quelle persone. Noi siamo esattamente quelle persone che abbiamo sempre aspettato. Lo siamo! Lo siamo! Lo siamo! Lo siamo! Lo siamo! Lo guerreiamo! Grazie a tutti. Sei sveglio o dormi? Allora, sei sveglio o dormi? Sì, eccomi. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Oscar. Ti dispiace uscire un minuto da quella tenda? E perché? So che sei arrivato tardi, ma in questo posto comando io e devi conoscere le regole. Le regole? Esatto, te le spiegherò io. Avvicinati un po' così non devo urlare. Ok. Grazie. L'affitto è di 25 dollari alla settimana. Io... Da quella parte ci sono i bagni. La donna delle pulizie se n'è andata un mese fa, quindi sei pregato di lasciare tutto pulito dopo l'uso. Ok. Li vedi quei bungalow? La tariffa per quelli è di 7 dollari la settimana. Ok, ho capito. Laggiù vicino al lago c'è l'area per i picnic. È la zona riservata soltanto ai campeggiatori della domenica, solo a loro. Campeggiatori della domenica? Di solito arrivano in automobile, si fermano uno o due giorni al massimo e poi se ne vanno. Uno come te, chi arriva con la pioggia, con una tenda e un materassino, qui lo chiamiamo campeggiatore professionista. Ah sì? I professionisti hanno un modo tutto loro di socializzare, come quelli laggiù, per esempio. Io prevedo di andarmene fra qualche giorno, non appena avrò trovato un lavoro. Visto che sei arrivato tardi, la prima notte è offerta dalla casa, ma il pagamento della settimana inizia venerdì alle 3 di pomeriggio. Se resti qui, devi essere puntuale con il pagamento. Non si fanno eccezioni per nessuno. Ok. Altrimenti sei fuori. Fuori. Ci siamo capiti, vero? Sì, sì, certo. Allora buona giornata. A proposito, se fossi in te, metterei quel telo di plastica sopra la tenda. Per quale motivo? Per la pioggia. Vedo che è molta esperienza. In radio. Questo è molto interessante. Perché non ha portato delle referenze? Non importa. Mi spieghi perché la Osborne Associate dovrebbe assumere uno come lei? Abbiamo ricevuto più di 20 domande. Perché proprio lei? Beh, nonostante le apparenze, ho ricoperto incarichi di supervisione in tre importanti aziende. Il che mi fa dubitare della sua etica lavorativa. o molto probabilmente ha seguito una carriera frammentaria, priva di obiettivi precisi. No, la verità è che sono stato licenziato quando le stazioni radio sono state liquidate. Ormai è tutto in mano alle multinazionali. Ho quasi 50 anni e sono sovraqualificato, quindi non mi assumerete, giusto? La maggior parte di chi risponde ai nostri annunci è in possesso di un master. Lei non ce l'ha. No, ma credo di poter fare un buon lavoro per la Osborne Associate. No, qui esigiamo un lavoro eccellente, signor Walsh. Buono non ci basta. Sono spiacente. Ok, senta, io ho davvero bisogno di questo lavoro. Non ha i requisiti necessari. Il prossimo. Il prossimo, chef. Sbrigati. Dai, non te la prendere. I nuovi arrivati li rendono sempre un po' nervosi, tutto qui. Quindi resterai tutta la settimana? Ti va di giocare? Sì, papà. Come hai detto? È più dura di quanto pensare, eh? C'è un emporio all'angolo, hanno anche un centro di riciclaggio. È così che questa gente si paga l'affitto. Riempi una busta di lattine sporche e ti sei già guadagnato metà settimana. Una busta al giorno e ti compri cibo e anche da bere. Veramente io non bevo, grazie. Davvero? Resta qui ancora un po' e lo farai. 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 Resta è la mia zona, chiaro? Scusa, non lo sapevo. Beh, ora lo sai. Ok. Hai conosciuto Oakley? Non sapevo che ci fossero dei territori Qui ognuno ha la sua zona Avresti potuto dirmelo, gli ebrei... Grazie, dato subito quelle lattine Quando un uomo ricorre alle minacce per comunicare In genere ha un carattere debole Dai, non te la prendi Ok È proprio carina, vero? Chi è? Si chiama Sammy Non mi dispiacerebbe darle una controllatina alla carrozzeria Quanto tempo è che lo dici? E allora, i sogni non hanno scadenza E comunque ho più chance di te, vecchio ubriacone Oh, sei comico E tu sei patetico Ehi, grazie Stai bene? Beh, da quale punto di vista? Hai ragione, che razza di domanda Tieni, che hai fatto al collo? Ho avuto un incidente durante un rodeo Non è stato piacevole Allora direi che oggi va meglio di ieri Non è irlandese, ma funziona No, grazie, non bevo Hai qualcosa che non va? No, è solo che non mi è mai piaciuto Oh, è terribile Già, tieni No, no, tienile tu Ti aiuterò a cavartela Ma che ti è successo? Ieri mi guardavi come se ti avessi investito il cane Io non ho un cane È una cosa che capirai presto È molto difficile Farsi amico un senzatetto Ma è ancora più difficile perderlo Vuol dire che siamo amici? Non ancora No, grazie a tutti Vuoi passare la giornata a leggere? No, no Li devo mettere sotto il sacco a pelo Neil, coraggio Vieni Su Non aver paura Non mordo Vieni qui Ragazzi, avete fame? Neil? Ma ce n'è abbastanza? Figliolo, nel cassonetto giusto ce n'è sempre abbastanza Bisogna solo sapere dove guardare e il gioco è fatto C'è anche guacamole? Me lo sto chiedendo anch'io Non sono in vena, chef Davvero, non è aria Il lunedì si batte la fiacca Ora comincia Il martedì e il mercoledì fortunatamente la situazione migliora Ma soltanto un po' Per il fast food bisogna aspettare giovedì Perché la gente corre Sembrano tutti i top impazziti che si affannano ad arrivare al fine settimana Perché? Perché venerdì è giorno di paga Poi arriva il sabato sera La sera in cui si esce Quando la gente spende quasi tutto per mangiare Per questo si trova sempre il guacamole Il sabato E sapete perché? Per via del... Come si chiama, Fitch? Reddito disponibile Per il reddito, esatto È quasi pronto, ragazzi La domenica è il giorno migliore Perché quasi tutti mangiano a casa Suo coraggio, prendete i piatti Neil Prendene un po', dai Non ho fame, grazie Il ragazzo è ancora un novellino Lascialo perdere Tornerai presto Ehi, tu Hai bisogno di qualcosa? Sì, avete un bagno Ne abbiamo due di bagno Grazie Dove credi di andare? In bagno, ovviamente Amico, sai usare la testa? Ora ti spiego Vedi quell'albero dall'altra parte della strada? Lo vedi? Sì Bene Allora va a piscire laggiù come fanno gli altri cani Quelli come te mi fanno schifo Perché non vi trovate un lavoro come tutti gli altri? Che problema c'è? Questo crede di poter entrare e usare il bagno Faccia presto, ok? Grazie Allora va a fare un po' di Grazie. 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 Mi scusi. Salve. Oh, salve. Mi chiamo Neil e dovrei... Harry, sono il custode. Salve, Harry. Piacere. Harry, che cosa ne pensa del libro? Oh, il libro. È bellissimo. Non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno da quando ho visto il suo nome fra gli ospiti. Beh, venga, le faccio vedere dove è la sala d'attesa. Sì, senta, Harry, volevo chiederle cosa le è piaciuto del libro. Oh, non vorrei annoiarla con le mie chiacchiere. Non mi annoia affatto, anzi, mi interessa molto. Ho passato la vita a covare rabbia verso mio padre e non ho intenzione di usare giri di parole perché il mio vecchio era veramente un bastardo. E io lo odiavo. Lo so, sono parole forti, ma vere. E questo libro... Il suo libro mi ha aiutato finalmente dopo vent'anni di rabbia e di odio profondo. Mi ha aiutato a perdonarlo. Ho capito che quello che provavo per lui in realtà era quello che provavo per me stesso. E quindi ho dovuto perdonare me stesso per i sentimenti di rabbia che provavo verso mio padre. Credo... Credo che sia la prima volta che lo dico ad alta voce. Ecco qui. Pagina 3. Conosco bene il suo libro. Ne sono sicuro. Per me la forma più frequente di comunicazione sono i sentimenti. I sentimenti sono il linguaggio dell'anima. Se vuoi sapere quanto c'è di vero per te in qualcosa, considera ciò che senti a quel proposito. Fitch. 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 Mi senti? Ma Gesù, sono ubriaco, non assurdo? Andiamo, non puoi fare così. Io non ho fatto niente. È il pancreas che ragiona per conto suo. Sono solo giocando la mano che mi è stata data. Non farmi prediche. Ti stai uccidendo, lo sai? Non chiedermi di smettere di bere. Non posso farlo. Certo che sei un gran rompipalle, eh. Ciao. Approfittate dell'offerta 3x2 al reparto surgelati. Affrettate. È solo per oggi. Ecco apportare. Grazie. Grazie. Buongiorno. 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 Io non voglio morire in quel parco. Buongiorno. 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 Buongiorno, programmazione. Chiamo per l'annuncio sul giornale. Come ha detto? Mi scusi, potrei parlare con il responsabile della programmazione? È in onda in questo momento, vuole dire a me? Sì, chiamo per l'annuncio per il DJ del weekend. Pronto? Quell'annuncio doveva uscire la prossima settimana. Beh, l'avranno anticipato, ho il giornale in mano. Quale giornale? Lushlands Daily Tidings. Scusi, quanti ne abbiamo oggi? Oggi? È il 7 novembre. Pronto? No, io... Sì, sono ancora qui, mi scusi. C'è qualche posto disponibile? Sì, negli ultimi sei mesi ci sono stati parecchi cambiamenti. Va bene, mi lasci nome e numero di telefono. Sono certa che Roy la chiamerà. C'è qualche possibilità che riesca a parlare con Roy oggi? In questo momento è molto occupato, ma vedrò che cosa posso fare. A che numero puoi richiamarla? Ah, sì, sì, certo. Puoi richiamarmi al... Puoi richiamarmi al 5557507. A proposito, mi chiamo Neil. Salve, Neil. Io mi chiamo Liora. È stato bello chiacchierare con te. Anche per me è stato bello chiacchierare con te Liora. Grazie e... A presto. Aspetto con ansia la chiamata. Bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusate! Scusate! Mi saprebbe dire per quanto andrete avanti. Sto aspettando una telefonata. È una cosa importante. Sì, molto importante. Che diavolo è successo? Non lo so, si è spento. Beh, sistemalo. Abbiamo altri due interventi. Tu vieni qui. Pronto? Neil. Salve. Non voglio avere altri problemi. Ciao, sono Liora. Ciao, Liora. È un brutto momento, ti richiamo? No, 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 è perfetto, perfetto, sto benissimo. Tu come stai? Bene. Ascolta, ho parlato di te, Rai, vorrebbe incontrarti domani mattina verso le nove. Calma, eh, calma. Domani sarebbe fantastico, certo, sarebbe perfetto. Fa controllare se la spina è collegata. Ok. Sei dove siamo? K-Y-O-L. Riuscirò a trovarvi lì ora, non preoccuparti. Ok, allora ci vediamo domani. D'accordo, a domani. Grazie. Grazie tante! Quindi, se ho capito bene, lei sostiene che tutti noi teniamo continuamente una conversazione con Dio, è giusto? Certamente. E mi potrebbe fare un esempio di quello che intende? Le è mai capitato di sollevare la cornetta per chiamare qualcuno e quella persona era già dall'altra parte? oppure di guidare pensando che la sua vita non avesse alcun senso e la radio ha iniziato a trasmettere una canzone che sembrava scritta proprio per lei e improvvisamente tutto ha assunto una nuova prospettiva o che qualcuno sia entrato nella sua vita per caso, lei si sarà chiesta perché fosse lì in quel momento e poi un giorno tutto ha acquistato un senso e lei si è domandata, ma come ho fatto a farne a meno? Certo, sono cose che capitano a tutti. Quello è Dio. Se è accaduto a Lui, può accadere anche a voi. Sta accadendo a voi e a lei. Certo, ha ragione. Torneremo tra poco con Neil Donald Wash e il suo libro Conversazioni con Dio. Certo, ha ragione. Certo, ha ragione. Sapevo di avere da parte qualcosa che poteva andare. Bene. Grazie di tutto. Grazie per la doccia e anche per la camicia, così almeno sono presentabile. È solo paura. Vorrei vedere che cosa faresti tu al posto mio. E se non funzionasse? E se funzionasse? La verità è che tu hai paura di rinunciare alla parte di te che ti ha fatto ridurre in questo modo. Quale paura? Non ho più neanche quella ormai. Ed è per questo che sei qui? No, io sono qui perché ho perso il mio lavoro. Tu sei qui perché hai perso te stesso. Beh, comunque adesso voglio avere quel lavoro. Lo avrai. Ora sei pronto per averlo. È la tua opportunità di sperimentare il vero amore. Potresti essere più precisa. È il momento di diventare uomo. Un vero uomo, intendo. Non un predatore. Quante altre donne ci vorranno? Quanto in basso dovrai cadere per capire che il tuo comportamento è un tentativo di distruggere te stesso? Guarisci da questo e sarai libero, Neil. Vieni qui, Neil. Fatti vedere. Vieni qui. Lo dicevo che quella sa fare i miracoli. Allora, com'è andata? Non lo so. Figliolo, sono anni che cerchiamo di sbirciare dentro la sua roulotte. Com'è? Carina. Ti ha fatto girare la testa? Gli ha fatto girare la testa. Abbiamo una cosa per te. Fitch, vieni qui. Sì, sì. Neil, sappiamo che è molto importante per te. Contributo per il biglietto. E trova il tempo per comprarti una colazione calda. Magari delle uova con bacon, frittelle con sciroppo d'acero e un toast. Non dimenticare il toast con un po' di marmellata d'uva, magari. E qualche biscotto. Direi biscotti... È per te la colazione o per lui? Ragazzi? Grazie. Su, muoviti. Sì, sbrigati, Neil. Il mio ragazzo si sta riprendendo. Già. Buffo, vero? Che c'è di strano se qualcuno vuole guardarti l'orologio? Noi non ci siamo già visti? Veramente... No, non credo. Io sono Carly. Ciao. Ah, prendi spesso questa linea? Mi chiamo Neil. Neil. Scherzo, se la prendessi spesso ti avrei notato, giusto? Io la prendo praticamente tutti i giorni. Sono fatta così. Tu pensi che un giorno mi comprerò un'auto? No. A me piace troppo la gente. Faccio la receptionist, lavoro per una ditta di costruzione a Medford. Ultimamente siamo sommersi di lavoro. Già. No, l'idea di starmene seduta in un'automobile tutto il giorno da sola non fa per me. Io amo la gente. Un momento. Questo l'ho già detto, vero? Sì. Sì, beh, che ci vuoi fare? Ti sembrerò una pazza. È stato un piacere conoscerti. Oh, devi scendere qui. Beh, sì, io credo di sì. Accidenti. È proprio come succede nella vita. Le persone vanno e vengono continuamente e non sai mai perché. E non sai neanche se un giorno le rivedrai. Io non ci avevo mai pensato. Fa riflettere, non è vero? Beh, addio. Oh, no, no, no. Non devi dire addio. Di arrivederci, alla prossima, tutto ma non addio. Addio è una cosa che dici quando lasci un brutto lavoro oppure un cattivo amante. Sì, esatto. Già. Beh, allora... Arrivederci. Ti vediamo. Ehi, hai visto? Hai imparato subito. Bravo. Gente che parla con i morti. Storie di fantasmi. Questo è altro venerdì nel Freak Out Show. Un appuntamento imperdibile. Lunedì mattina saranno qui con me Bob e Jane. Hanno pubblicato un nuovo libro intitolato Rompere con mamma, papà, tuo cugino o come diavolo si chiama. Firmeranno copie autografate del libro alla libreria Pegasus di Medford a partire dalle 19 e sempre lunedì intervisterò il proprietario di un negozio di alimentari. Il tipo è arrabbiato, molto arrabbiato. Ce l'ha a morte con quegli idioti che gli ordinano petto di tacchino affettato e all'ultimo minuto lo cambiano con il prosciutto. Beh, anche con quelli che ordinano il prosciutto e poi lo cambiano con il tacchino, naturalmente. Tu devi essere Neil. Sì. Liora, ci siamo sentiti ieri al telefono. Ah, certo. Grazie per avermi ricevuto. Non devo riceverti io, devo riceverti Roy. ed è una bella rogna. Dì a Janey che voglio parlarle. Oh, tieni con me. Non mi ricordo di aver approvato questo alcolizzato russo per la trasmissione di domani. Chi se ne frega se è precipitato dal sesto piano perché aveva bevuto troppa vodka e si è sopravvissuto per raccontarlo. Ehi, però, chissà, forse è divertente. Ok, vada per il russo alcolizzato, ma prepara una lista di rimpiazzi nel caso si riveli una fregatura e assicurati che non sia ubriaco perché non... Questo chi diavolo è? È l'appuntamento delle nove per lo spazio del weekend. Oh, ma certo, sì. Ciao, ciao. Salve. Accomodati, arrivo subito. Certo. Ok? Senti, la prossima volta che parlo delle mie questioni personali sei pregata di informarmi che c'è qualcuno che ascolta le mie spalle? Se tu ogni tanto riprendessi fiato io lo farei molto volentieri. Va bene, portami i file adesso e cancella questo pranzo. Ah, mamma mia. Mi dispiace molto per il contrattempo ma questo è stato veramente un mese pazzesco. Allora, come stai? Nick? Neil. Neil. Certo, ok. Liora è rimasta molto colpita da te. Dice che hai una certa esperienza, giusto? Beh, ho lavorato in radio per un po' a Baltimora e poi nel sud per diversi anni. La mia carriera si è sempre svolta in ambito radiofonico. Sa una cosa? Io riesco a far sentire agli ascoltatori il fruscio delle foglie che cadono per radio. E come ci riesci? Se ci tiene a saperlo dovrà assumermi. Che ne dici di sabato pomeriggio? Sabato pomeriggio va benissimo. È uno spazio di quattro ore. È compatibile con i tuoi impegni? Non c'è problema. Davvero? Mmh. Sì. E va bene. Sei assunto. Fantastico. Allora ci vediamo sabato. Certo. Chiudi la porta, grazie. Grazie. Sì. 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 Grazie Già Allora ti chiamo per definire la scaletta musicale Sì, d'accordo, le tue idee sono perfette Davvero? Ciao Le mie idee sono perfette Le mie idee sono perfette Le mie idee sono perfette Le mie idee sono... Perfette La pizza calda appena uscita dalla scatola È molto più buona di una pizza fredda uscita da un cassonetto È fantastica Me ne sto lì e a un certo punto, non so perché Guardo fuori dalla finestra e vedo... Neil, ne vuoi un altro pezzo? Certo che ne voglio un altro pezzo, l'ho portata io Dunque, stavo dicendo Guardo fuori dalla finestra e la vedo con quel tizio E allora mi dico tra me e me che tutto sommato la cosa non mi dispiace Giusto E adesso eccomi qua E sapete che vi dico? Sto insieme a dei buoni amici e sono felice Sono felice così, quindi facciamo un bel brindisi Ai veri amici Al bungalow più bello del campeggio Al bungalow più bello del campeggio Buon appetito Buongiorno Buongiorno anche a te, cara Ciao, Neil Ciao, Liora, che ci fai qui? Oh, che accoglienza calorosa, grazie Scusami, non so perché ma credevo che abitassi a mezzo Sono nata e cresciuta qui ad Ashland E tu? Abiti da queste parti? Neil, vecchio mio Come te la passa, amico? Ma guardatelo Adesso è mister tempi migliori Già Allora, non vuoi presentarmi alla tua affascinantissima amica? Liora, lui è Fitch Fitch, lei è Liora Piacere di conoscerla Piacere mio, Fitch Già Ed è un piacere anche guardarla Fitch, scusa, possiamo vederci dopo? Ah, non dire stupidaggini Mi unirò a voi per un bicchierino Ma non preoccuparti Anche se sei l'unico amico che ho che ha un lavoro Mi sono portato da bere Fitch A meno che tu non abbia intenzione di ritirarti nel tuo bungalow Fitch Vecchio volpone Il tuo stile lo conosco bene Il mio amico Neil ha un bellissimo bungalow Dovrebbe vederlo È proprio un bel nido d'amore Probabilmente ci entrereste tutti e due Belli stretti Oh, mi scusi Ecco, lei si fa a me Scusa, mi dispiace Non fa niente Sono un idiota, mi dispiace È tutto a posto Per favore, la smetta Evviva Tutti ciù per terra Io devo andare Mi dispiace Scusa Mi dispiace Mi dispiace No, no, no. L'affitto è di 25 dollari la settimana. Da quella parte ci sono i bagni. La donna delle pulizie se n'è andata un mese fa, quindi si è pregato di lasciare tutto pulito dopo l'uso. Sono passato per vedere se avevi bisogno di aiuto. È tutto qui? Effettivamente è strano che tutto quello che possiedo entri in un borsone da viaggio. Non è sbagliato viaggiare leggeri. Forse dovremmo parlare dell'altro giorno. No, non è necessario. Sì che lo è. Per quello che mi ricordo lo è. Sanni pensa che sia successo perché non volevo accettare che tu lasciassi questo posto prima di me. E dato che quella donna non è una che dice fesserie. Buffo, eh no? Sono arrivato alla soglia dei 60 anni. E improvvisamente torno ad essere un bambino geloso. È stupido. Deve essere bello andare via. Come hai detto tu, è molto difficile farsi amico un senzatetto. Ma è ancora più difficile perderlo. Vuol dire che siamo amici? Non ancora. Vuol dire che siamo amici. Vuol dire che siamo amici. Non ancora. Non ancora. Vuol dire che siamo amici. Fallimento Liora? Roy? C'è nessuno? Sono Neil! C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno? Grazie a tutti. 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 Ecco, in questi ultimi tempi ho pensato parecchio a te, a noi, a noi due. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stai bene? Voglio risposte. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e ci sono stati Angeles e holy brown, Sto cercando di capirlo anch'io. Che ore sono? Nel... È incredibile. Che cosa è incredibile? Questa roba mi distrae mentre la batto al computer e ne sono felice. Non mi interessa se risulterà strano o che cosa la gente penserà di me perché dico questo. Io ero addormentata, risucchiata da questo incubo perpetuo di una vita costruita prevalentemente sul dubbio e sulla paura. Vuoi che ti dica quanto tempo ho passato nella mia vita a preoccuparmi di come avrei fatto a tirare avanti, a preoccuparmi di far quadrare i conti? Io non voglio passare la vita a tirare avanti. Voglio fare in modo che la mia vita sia vissuta pienamente. voglio vivere una vita che lascia un segno. Una vita costruita sull'amore e la compassione. E queste parole... Ti rendi conto? Sto rileggendo anche brani che ho già finito di battere. Hai sentito che cosa ti ho detto? Certo, certo. Ti racconto come avviene. È come se io stessi immobile e scrivessi sotto dettatura e non riesco a fermarmi. E perché dovresti? Liora, questo deve diventare un libro. Anzi, non un libro solo. Questi formeranno il volume numero uno. E ne ho già altri sei pieni di materiale per il volume numero due. Oh, sarò molto occupata. Grazie. Senti, so che non posso pagarti. Smettila. Ma non mi aspetto che tu lavori gratis. Neil, noi siamo amici. E poi pensa a quanti soldi risparmierò in psicoterapia. Ok. Facciamo un patto allora. Se verrà fuori qualcosa da tutto questo, voglio dividere con te parte dei proventi. Se vuoi creare abbondanza per te stesso, creala anche per qualcun altro. L'ho scritto io. Amico mio, affare fatto. Non rientra nella nostra linea editoriale. Ma è questo il punto. Non deve rientrare in nessuna linea editoriale. Ok, Bob. Vediamo un po' se almeno leggi la tua posta personale. Caro Bob, leggi dieci pagine a caso. Ti sfido. No. 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 Pronto? Neil Walsh? Così sembra. Bob Friedman, Hampton Roots Publishing. Salve, Bob. Hai accettato la sfida? Sì. Il tuo stile mi piace, Neil. Se non ottieni quello che vuoi, punta in alto. È esattamente quello che farei io nella tua posizione. Davvero? E quale sarebbe la mia posizione? Il tuo libro sta per essere pubblicato, Neil. Tu stai scherzando? Non scherzo mai quando si tratta di denaro. Cominceremo con 5.000 copie. E dopo che tutti i miei familiari l'avranno letto, Bob? Ottimista. Mi piace. Io credo nel mio libro. Anch'io. È per questo che vorrei stringere i tempi. Ok. Farò chiamare i tuoi collaboratori per definire i dettagli. Ok. Un momento, aspetta un momento. I miei collaboratori sono io. Non più. Hai un socio d'ora in poi. Ti richiamo presto. Sì! Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sicuramente che siamo stati contattati da molti grandi gruppi editoriali per il libro di Neil. Qualche offerta? Tu che le dici, Sharon? Beh, è questo che rende la vita interessante, non credi Bob? Già. Tu avevi già in mente un'offerta? Prima di arrivare al punto, ho passato più di metà della mia vita in questo settore. È fatta eccezione per quattro anni in un grande gruppo, ho sempre lavorato per la Patnam. E anche Bob converrà che è piuttosto raro nel nostro mondo. Le persone non conoscono più la lealtà. La verità è che viviamo in un mondo che si fa sempre più duro. I tempi stanno cambiando. Qual è la tua offerta? Forse vi starete chiedendo perché dico tutto questo. Qual è la tua offerta? Vi dico tutto questo semplicemente perché... ...credo che la Patnam sia una compagnia che ha un'anima. Sì, siamo una casa editrice molto grande, ma abbiamo anche la capacità di mantenere viva l'anima di una piccola, come quella di Bob. E quando ho sentito che la Hampton pubblicava il suo libro, mi ha fatto molto piacere. Sharon, quanto? Siamo disposti a offrire un milione di dollari per i diritti in tutto il mondo di conversazione con Dio. Grazie delle belle parole. Le ho veramente apprezzate. Anche Neil ne sono certo. Sono d'accordo con te. La Patnam ha un'anima. Ma ha anche un notevole potere d'acquisto. E sfortunatamente per questa cifra la Hampton Roads deve rifiutare. Grazie comunque per l'offerta. Neil, andiamo? Sai, credevo di essere venuta qui con un'offerta molto generosa, Bob. Non lo è abbastanza. Qui stiamo parlando di un libro che è prenotato per i prossimi due mesi. Non riesco a stampare le copie abbastanza velocemente. E credo che possiamo convenire che questa sia solo la punta di un enorme iceberg. Andiamo. Non avevi detto che ti era piaciuto? Infatti è così. E sono disposta a darvi un milione di ragioni del perché mi è piaciuto. Un milione possiamo guadagnarlo da soli. Ti manderò una cartolina quando succederà. Neil, dobbiamo andare. Grazie. Grazie. Ma sei pazzo? Aspetta a dirlo. Sono un mucchio di soldi. Ti dico che... Un momento, Bob. Adesso vedrai. Un milione e mezzo. Prendere o lasciare. Mi dica, perché vuole il libro? Beh, forse penserà che sia un po' l'antica. Ma credo che il suo libro possa cambiare il mondo. È... È suo. È suo, Bob. È mio. Ma certo. Per un milione e mezzo di dollari. Sì, Bob. Per un milione e mezzo di dollari. Neil, puoi pensare tu al conto. Voglio definire con Sharon alcuni punti in sospeso. Torno fra qualche minuto. Ok. Bob. Grazie. Grazie, Sharon. Congratulazioni, Neil. Michael. Ok. Bravo. Allora, ascolta. Sono lieto che la pensi così. Per la copertina manterremo la stessa immagine. È perfetta, secondo me. Ho già fatto preparare il bozzetto. Dovremmo soltanto rivedere alcuni piccoli dettagli. Posso avere il conto, per favore? Oh, mi scusi. Si, figuri. Che sta leggendo? Economia. Ho un esame fra mezz'ora e sono terrorizzata. Oh, studia all'università? Sì, dodici crediti e mi laureo. Giusto in tempo per le vacanze estive? Forse per quelle dell'anno prossimo, se sarò fortunata. Ho un figlio e tra lui gli impegni di lavoro e lo studio le cose vanno un po' rilento nella mia vita. Eh, buona fortuna per l'esame. Grazie. Altro caffè? No, no. No, sto benissimo così. Grazie. D'accordo. Grazie. Oh, mio Dio. E anche il mio Dio. E questa sarebbe una piccola percentuale. Era un assegno molto, molto sostanzioso. Neil, perdonami, non vorrei sembrarti un ingrata, ma sono tantissimi soldi. Beh, ti serviranno per la ristrutturazione, così puoi cominciare subito da voi. Neil, non posso proprio accettarli. E ora voglio che accetti questi soldi. Noi due avevamo fatto un patto, ricordi? Tommy, c'è Neil! Non mi chiedi entrare! Ti fermi per colazione, vero? Dobbiamo festeggiare. Ok. Che hai preparato? E questo è un ing pouco l'hanno. L'amera è in order. L'amera è in order. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In fondo si tratta di aggiungere un giorno al massimo due in Russia. Chiedono soltanto questo. Non mi interessa quello che chiedono, non mi va. Sono due settimane che non torno a casa, sono stato... Pensaci su, ok? Pensaci su. Ma tu da che parte stai? Dalla parte di Dio. Vorrei tanto saperlo. Forse è perché ho sprecato così tanto tempo della mia vita, non lo so. Ma quello che so è che la cosa non dipende da me, ma... solamente da lì ora, credo. Sono stata ai Suoi incontri, signor Walsh, e ho letto il suo libro. Un libro che parla di un Dio amichevole e di un universo altrettanto amichevole. Ma lei non ci crede, vero? Io credo che il suo Dio sia un Dio vendicativo. Adottai mio figlio quando aveva sei mesi, perché mi dissero che non potevo avere figli. Non dicemmo a Jimmy che era stato adottato finché non fu abbastanza grande da poter capire. E a 14 anni decidemmo che era il momento giusto. I Suoi voti peggiorarono, il Suo atteggiamento cambiò, iniziò ad avere problemi a scuola, era diventato intrattabile, ce l'aveva con Sua madre perché l'aveva abbandonato e con noi perché gliel'avevamo detto. Era arrabbiato con il mondo intero. L'unico modo per riuscire a calmarlo fu promettergli che quando avrebbe compiuto 18 anni avremmo trovato Sua madre. L'avremmo trovata a qualsiasi costo. Gli promettemmo che avrebbe conosciuto Sua madre. E dopo questo il Suo atteggiamento cambiò? Solo marginalmente. Il figlio che conoscevamo, il figlio che amavamo tanto teneramente, non c'era più e non volle più chiamarmi mamma. E quando Jimmy compì 18 anni, fu investito da una motocicletta. Un conducente ubriaco uccise il mio Jimmy. Quindi la prego di illuminarmi circa la Sua definizione di un Dio amichevole perché non capisco come possa un Dio amichevole permettere che dei genitori che amano il loro figlio incondizionatamente passino un simile inferno. Che cosa dice ora il Suo Dio, signor Walsh? Che cosa dice ora il Suo Dio, signor Walsh? Mi dispiace, piccolo. Tu non amerai mai nessuno. Come ti chiami? Giorgia. Giorgia. Tuo figlio è morto perché tu potessi mantenere la promessa fattagli. Sua madre morì alcuni anni fa. Morire per Jimmy era l'unico modo per poter stare insieme a lei. Capisci? È così. È così. Eh? È così. È così. Io non... Da dove mi è venuta quell'idea? Neil... Onestamente non so che cosa mi sia successo lì dentro. E se mi fossi inventato tutto? Tu credi? Non lo so. Non so come possa essermi venuto in mente. Sì che lo sai, Neil. Sì? Ok, fissa pure i due giorni extra in Russia. L'ho già fatto. L'ho già fatto. Avevi ragione su di me, mamma. Ma sto imparando. L'ho già fatto. L'ho già fatto. L'ho già fatto. Ma sto imparando. L'ho già fatto. L'ho già fatto. Ecco il biglietto. E il volo è alle 10. Grazie. Grazie di tutto. Ci vediamo a New York. Solo un minuto. Ci vediamo a New York. Ci vediamo a New York. Ci vediamo a New York. Invocami perciò, ovunque e in qualunque momento ti troverai separato dalla pace che io sono. Io sono lì. Ci vediamo a New York. 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 Ci vediamo a New York.